Le migliori città per il lavoro in Italia non sono certo quelle inerenti, la Puglia, infatti nella classifica dei 110 capoluoghi di provincia che è stata promossa dall'Associazione Italiana per la direzione del personale, Bari e altre città pugliesi sono in una fascia intermedia ed altre in una fascia un pochino più preoccupante. Per quanto riguarda la fascia gialla, Bari è tra queste, per quanto riguarda invece la fascia rossa in termini di lavoro, la peggiore e Voggia. Per la definizione della classifica erano stati presi in considerazione diversi parametri, tra cui il livello dei redditi, il costo della vita, la situazione sia a livello sociale che sanitario e anche cultura, tempo libero, sicurezza sul lavoro e sul territorio.